Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany visto che febbraio è già arrivato, direi che è arrivato anche il momento del wrap up di gennaio che per me è stato un mese davvero proficuo per le letture con tanti alti, anche dei bassi, però insomma ora vi racconto tutto e spero che qualcosa di quello che ho letto vi possa incuriosire o in ogni caso diventare un argomento di discussione perché ci sono spunti veramente molto interessanti prima di iniziare il video come sempre vi tedio con la parte un po' di autopromozione perché sapete che se vi iscrivete al mio canale, se seguite i miei video, se li guardate se lasciate dei pollici in alto, se li condividete, insomma tutte queste azioni mi aiutano a far crescere il mio canale e soprattutto a sostenere il mio lavoro con tutti questi video in più se vi va di acquistare qualcosa tramite i link di Amazon che vi lascio giù nell'info box io sono una figliata quindi per voi non cambia nulla ma io ricevo una piccolissima percentuale sulle commissioni e questo ovviamente mi permette anche di fare più acquisti per il canale e leggere sempre di più vi ringrazio, scusate per questa parentesi che purtroppo sempre sempre devo fare passerei al wrap up e al primo titolo che ho letto a gennaio e quindi proprio il primo libro del 2018 il mio primissimo libro del 2018 è The Bells di Doniel Clayton che come vi preannunciavo nella mia TBR era già uno di quei libri che punto davvero tanto e che finalmente sono riuscita a leggere e a finire grazie a Nat Galley mi è arrivato l'Arc quindi sono riuscita a leggerlo in anteprima perché uscirà a breve dopo vi metto tutte le info giù e non so come dire questo era un libro che io ero prontissima ad odiare praticamente questa cosa folle che a me succede ogni tanto comunque leggendo la retro copertina vedendo tutto l'hype che si stava iniziando a creare attorno a questo libro vedendo anche poi quanto fosse circolato nei mesi precedenti in mano a tante blogger era il classico libro hype che sarà molto molto hyped e io fatico ovviamente sempre ad apprezzare quelli eppure vi devo dire che nonostante queste premesse ovviamente irrazionali che circolavano nella mia testa devo dire che il libro non mi è dispiaciuto per nulla The Bells è un fantasy potremmo definire con elementi molto realistici comunque e in questo mondo esistono quelle che vengono chiamate bells che sono delle persone però con poteri magici che hanno la capacità di alterare i tratti somatici del viso e non solo per rendere più belle le persone e in questa società che è ossessionata dalla bellezza dove il colorito della pelle è naturalmente grigio le persone ricorrono alle bells per sentirsi più belle e per apparire al meglio però ovviamente è un trattamento chiamiamolo così perché ricorda molto la chirurgia estetica delle bells è davvero molto doloroso e quindi pur di apparire al meglio le persone si sottopongono a questo procedimento atroce davvero e noi seguiamo la storia di una bells e del fatto che lei non riesca proprio a uniformarsi a quest'idea di bellezza standard che c'è in questo mondo in più questa è una storia infarcita di intrighi politici perché lei diventa la prescelta quindi viene scelta dalla famiglia reale per diventare la belle di corte e in mezzo ci succederanno parecchie cose allora devo dire che i primi capitoli per me sono stati uno scoglio non da poco però che sono riuscita a superare perché mi stavano davvero infastidendo molto per diversi motivi sembravano proprio l'emblema della superficialità in realtà dopo il libro cambia molto diventa innanzitutto molto più entusiasmante dal punto di vista della trama succedono davvero tantissime cose e vi devo dire che invece dopo i primi, proprio i primissimi capitoli in realtà la storia per me è diventata tipo un'ossessione proprio è uno di quei libri che non importa se l'ambientazione, il world building i personaggi non è che siano descritti granché bene però è talmente avvincente che è impossibile non andare avanti in maniera veramente morbosa io sono rimasta alzata fino a tardanotte pur di finirlo perché questa è la particolarità di questo libro ed è anche il grande punto forte è il classico libro che ti tiene incollato alle pagine nonostante tutti i difetti che ha perché ce ne sono molti innanzitutto per me il difetto fondamentale è che è tutto molto piatto ma piatto nel senso che noi sappiamo veramente poche informazioni e le uniche che abbiamo sono le uniche con cui possiamo seguire la storia per esempio della protagonista noi sappiamo veramente poco del suo carattere non sappiamo molto sappiamo però che è una ribelle questo è l'unico filo conduttore della sua storia per il resto non sappiamo molto su di lei né sugli altri personaggi anche della storia effettivamente mancano tante opposizioni cioè pur essendo una ribelle non è che impone molto la sua idea in questa società in questo mondo però devo dire che è molto intrigante comunque come si sviluppano i piccoli sotterfugi di corte questo è stato molto interessante per me che ad esempio amo particolarmente gli intrighi politici anche tutto il resto del cast è lì giusto per fare da supporto alla protagonista perché non è che vengono esplorati non vengono approfonditi non seguiamo la loro storia cioè sappiamo che sono lì aiutano la protagonista nel bene o nel male a far proseguire la storia ma basta e in più devo dire che in realtà questa proiezione all'estremo di qualcosa che io rivedo un po' nella nostra società questa ossessione nel parire veramente meravigliosi, perfetti tutti molto standardizzati mi è piaciuta questo concept secondo me è molto valido poteva essere eseguito meglio sicuramente però devo dire che io a The Bells ho dato tre stelline anche abbondanti dai perché secondo me è comunque un buon inizio ha tanto potenziale e esplora tante questioni che fondamentalmente mi interessano in più questo è un libro dove la protagonista non è bianca ma anzi viene invidiata da tutti per la sua perve meravigliosa una pelle nera che tutti vogliono raggiungere tutti cercano di diventare come lei anzi è proprio tipo la prima richiesta come vuoi essere, voglio essere così questo mi è piaciuto davvero molto l'ho trovato un buon modo per far vedere che la bellezza non è standard comunque per me tre stelline abbondanti diciamo non mi sento di regalare più voti a questo libro perché comunque è stato molto molto interessante passiamo volte perché oggi ne abbiamo da parlare e ora arriviamo alla nota dolente allora il prossimo libro di cui vi parlo ed è forse quello per cui mi è più difficile fare un discorso completo e probabilmente gli dedicherò un'intera recensione a parte perché è proprio molto difficile racchiudere in pochi minuti l'immensità di questo libro che è Circe di Madeline Miller che mi è stato inviato gentilmente a sorpresa da Bloomsbury e io sono immensamente felice e grata di essere stata tra le fortunate di aver avuto questa meraviglia in anteprima per me è molto difficile parlarvi di questo libro perché è qualcosa... prima di tutto ve lo dico questo è il mio libro preferito del 2018 caso se io nei prossimi mesi riuscirò a leggere qualcosa di meglio di questo non so mi deve proprio far diventare bionda platino quello che leggerò perché è impossibile è un libro scritto così bene e con una storia così toccante e non so faccio fatica proprio a parlarne però vorrei ragionare con voi su alcuni punti perché questo invece potrebbe interessare più voi più che sentire i miei lamenti di quanto ho pianto sulle pagine di questo libro allora innanzitutto Circe racconta la storia proprio di Circe e noi la seguiamo in una struttura episodica dalla sua infanzia fino alla sua età adulta però essendo una dea, una divinità definire cos'è la sua età adulta è una cosa un po' complessa diciamo che potremmo dividere la sua vita in due grandi filoni la sua vita insieme agli dei e la sua vita in esilio sull'isola di Ea che è dove ovviamente la conosciamo meglio e questo libro in realtà io temo che non verrà capito a fondo o non verrà apprezzato tanto quanto la canzone di Achille perché nella canzone di Achille noi avevamo questo grande amore per cui ti fare avevamo questi due personaggi che ci hanno rapito il cuore perché la loro relazione era impossibile, era difficile e noi volevamo che ce la facessero e in più c'erano cavalieri, insomma c'erano soldati geste eroiche, insomma c'era qualcosa davvero di epico in questo caso invece l'epicità non è data da un grande amore l'epicità non è data da geste eroiche l'epicità è data da un personaggio che rappresenta le donne rappresenta tutte le donne e anche se io all'inizio pensavo che Circe non sarebbe mai potuta essere un personaggio che io potevo amare perché Circe è una donna che è piena di debolezze perché Circe si fa calpestare per gran parte della sua vita nella sua vita insieme agli dei viene trattata malissimo viene considerata una poveretta quasi non degna di essere chiamata una dea e nonostante sia immortale e sia cresciuta con loro non è abbastanza bella non è abbastanza intelligente non è abbastanza non è proprio abbastanza per essere una divinità e quindi chiunque la tratta nel peggiore dei modi la calpesta, la sfrutta, la usa e lei li lascia fare lei non si ribella mai a questa cosa questa prima fase è proprio la fase in cui ho fatto più fatica a capire questo personaggio eppure andando avanti nel libro credo che questa sia diventata proprio un'ode alla gentilezza perché Circe è quel personaggio che preferisce aspettare in silenzio che non è interessata per forza ad imporre la propria idea la propria opinione, il proprio volere crede che tutto questo prima o poi passerà e che non è questa la cosa importante nella sua vita e penso proprio sia un inno alla gentilezza alla fine dei conti questo libro e al persistere come fanno davvero tutte le donne non mi riferisco ovviamente alla gentilezza mi riferisco alla persistenza ed è veramente un ritratto intimo di quello che significa essere una donna tutte le difficoltà tutte le fasi della vita che dobbiamo affrontare per cambiare e per crescere perché rispetto alla sua infanzia Circe nella sua età che possiamo definire adulta diventerà una donna molto diversa per alcuni aspetti non per tutti perché rimarrà molto fedele a se stessa però cambierà proprio atteggiamento cambierà prospettiva diventerà molto protettiva delle sue capacità e Circe fin dall'inizio dice che prima di lei non esisteva neanche un nome per definirla lei veniva chiamata una ninfa ma lei non era una ninfa non lo è mai stata e infatti per lei viene cognato il termine strega perché le sue capacità non possono essere assimilate da nessun altro termine e questo suo ritratto viene interpretato in maniera elegante attraverso le parole viene descritto in maniera molto vibrante viene rappresentata con questa prosa realistica ma allo stesso tempo affascinante con quel tocco di magia che solo Madeline Miller penso sia capace di fare lei riesce quasi a attualizzare l'epica greca ed è... non so, è troppo brava è veramente troppo brava penso che questo rappresenti anche un eroe diverso per il quale noi dobbiamo tifare noi non cerchiamo mai la debolezza nei nostri eroi vogliamo queste gesta epiche queste personalità taglienti e invece non prendiamo mai in considerazione la gentilezza come uno dei valori più alti dell'umanità non per forza eroi che si impongono con la forza non è sempre quello forse la spinta che noi dovremmo avere verso dei personaggi io mi ci metto tra quelli perché io ero convinta di non poter apprezzare un personaggio che si dimostra debole e non ha paura di apparire quello che è nella maniera più limpida possibile allora per non dilungarmi sicuramente io farò una recensione molto dettagliata di questo libro perché è veramente qualcosa di meraviglioso gli ho dato 5 stelline su 5 ma gliene avrei date 50 spero che se anche voi siete grandi fan della canzone di Achille li prenderete come due cose distinte non paragonateli perché non ha senso proprio sono due cose diverse questo io lo trovo un lavoro molto più maturo e l'eleganza di questa scrittura vi rappirà io credo di aver sottolineato tre quarti del libro perché è veramente incredibile è meraviglioso Madeline Miller ci può mettere 17 anni a scrivere un libro ci vediamo fra i prossimi 17 che sarà comunque un libro incredibilmente meraviglioso come è stata Circe per me spero davvero che lo affronterete con lo spirito giusto senza paragonarlo alla canzone di Achille perché non ha proprio senso farlo sono due mondi diversi comunque insomma io direi di finirla qua perché sennò parlo solo di questo libro che è il libro migliore del 2018 ve lo dico già quindi esce ad aprile segnatevelo compratelo e non ve ne pentirete mi raccomando ok e cosa puoi leggere dopo aver letto il libro del 2018 e aver fatto due notti intere di piantini su questo libro nulla se non squarta squarta come è stato God's Grave che è il mio terzo libro di gennaio God's Grave è il seguito di Nevernight che io ho letto a dicembre di Jay Kristoff e come vi avevo già anticipato nel wrap up di dicembre avevo alcuni punti da chiarire con il seguito perché secondo me la serie di Nevernight ha dei picchi di eccellenza ma in alcune cose è veramente molto standard e quindi io volevo vedere se con questo secondo libro arrivavamo a un dunque allora devo dire ve lo dico subito io gli ho dato 4 stelline che è lo stesso voto che ho dato a Nevernight perché c'è un miglioramento ma non è tale a giustificare un voto più alto secondo me poi dopo ovviamente siete liberissimi come sempre di dissentire credo che il mio voto così basso sia dovuto soprattutto a un fattore puoi leggere un libro del quale non capisci assolutamente una cippa per circa il 40% per me la risposta è no nel senso che questo libro si struttura in maniera molto diversa da Nevernight perché si divide in due blocchi ci sono dei capitoli che partono più o meno da qualche mese dopo la conclusione di Nevernight seguiamo quello che succede a Mia dopo e poi invece ci sono altri capitoli che avvengono in una sorta di futuro non ben definito e dobbiamo arrivare a un punto in cui capiamo cosa sta succedendo bene fino al 40% di questo libro questa roba non è assolutamente esplicitata che da un lato può essere interessante come esercizio stilistico dall'altro io facevo veramente fatica perché non è possibile davvero arrivare al libro e dirmi ma è ora cosa cioè dove sia cosa sta facendo perché non è possibile secondo me però devo dire che a livello di esecuzione nonostante questa prima parte caota non ben definita a me è piaciuto molto la seconda parte è molto avvicinente ed è il classico libro per cui arrivi alla fine e puoi solo che bestemmiare perché non è possibile che J. Christophe ti abbia lasciato lì e poi nella postfazione lui ovviamente dice eh lo so che state mi state mandando a tutti a quel paese perché so che questo non può essere un finale vi state chiedendo ma questo è un finale e no non è possibile che questo fosse il finale ebbene questo libro finisce con un giant what the fuck comunque io gli ho dato quattro stelline a questo libro non vi spoilerò la trama perché se non avete letto Nevernight non ha senso parlare di God's Grave comunque molto bene per alcuni aspetti perché davvero a livello di trama e di avvenimenti è veramente molto avvincente mia è sempre più ci sono tanti elementi interessanti all'interno della storia altri invece secondo me continuano a essere da rivedere e da sviluppare un po' meglio soprattutto farci capire un po' prima che cosa sta succedendo o non come in questo caso diciamo quattro stelline per me perché secondo me manca ancora qualcosa ma siamo a un punto veramente molto buono questa è una serie che mi sento chiaramente di consigliarvi però solo se avete un buon livello di inglese tra l'intermedio e l'avanzato se no vi risulterà veramente molto difficile e incomprensibile il prossimo libro di cui vi parlo che non è una novità perché è il libro che avevo scelto per la Diversity Challenge del mese di gennaio che era dedicato al tema del biraziale quindi a contaminazioni tra più etnie e culture vi rimando ovviamente al video se non l'avete visto perché è proprio un filone che seguirò in tutto quest'anno la Diversity Challenge e sto parlando di The Poet X di Elisabeth Attevedo questo libro è stato veramente una martellata sul cuore è stato proprio una pugnalata nello stomaco per tanti versi è stato bellissimo questo venerdì ve ne parlerò nel Feminist Friday perché voglio approfondirlo bene perché tratta di una serie di temi davvero molto inerenti a quello che sono le nostre discussioni del venerdì in ogni caso vi parlo brevemente di quello che rappresenta questo libro è un libro che racconta la storia di Gio Mara che è una ragazza che è di origine dominicana ma che vive a Harlem e vive con la madre che è veramente un'ossessionata religiosa e che obbliga lei e il fratello a cose assurde non parla con i figli che non parla col marito il marito è muto insomma c'è questa situazione familiare veramente disastrosa Gio Mara riesce a trovare una valvola di sfogo nella poesia e racconta con questa sorta di slum poetry che potremmo definire molto simile a quello che avviene anche nel rap nell'hip hop quando si leggono le lyrics perché è proprio qualcosa di diretto qualcosa che esce dallo stomaco e tutto il libro è strutturato in potremmo dire in versi anche se non è proprio come una poesia quindi non vi aspettate un libro dove leggete cioè non è il canzoniere capito e non è assolutamente difficile anzi è una poesia molto intima senza filtri assolutamente emotive ed emozionale perché tutto ciò che Gio Mara sente lo trascrive è veramente molto interessante ci sono tanti punti di vista di una ragazza qualunque come possiamo essere tutte noi e che riporta quelle che sono i suoi dubbi le sue incertezze la sua rabbia le sue frustrazioni è veramente molto molto interessante molto bello ve ne parlerò nello specifico venerdì perché secondo me merita molto è un tipo di narrazione della quale io non ho mai letto titoli simili quindi ero molto curiosa e dopo averlo letto sono molto felice di averlo fatto di avervelo già consigliato più volte perché per me si merita 4 stelline e mezzo ci vediamo poi venerdì per parlarne meglio il prossimo titolo di cui vi parlo è tutta colpa di Joe Reitz perché devo dire che io non avevo gravitato molto intorno a questo titolo ma dopo averne sentito parlare così bene sul suo canale più volte ho detto vabbè evidentemente qualcosa che potrebbe piacermi non è qualcosa che potrebbe piacermi è qualcosa che io potrei amare alla follia e stiamo parlando di saga ora solo il primo volume e sto aspettando il secondo e il terzo ovviamente editi da Bao Publishing questa è la graphic novel della vita per me proprio non riesco a immaginare qualcosa di più vicino ai miei gusti di saga cioè la prima scena c'è un parto con un sacco di bestemmie si so che veramente io sono basica da queste cose però io veramente sono innamorata di questo libro ne avrete sentito parlare moltissimo in giro per booktube per internet comunque la storia di due personaggi appartenenti a due fazioni diverse che si innamorano e si vedono costretti a fuggire iniziano questa loro delirante fuga nell'universo insieme alla loro bambina che è appena nata la forza di questo libro a parte avere tavole veramente bellissime super crude super cruente vabbè ormai avete capito che io adoro queste cose super gore però ha veramente uno stile molto bello e la storia è molto interessante non è nulla di nuovo effettivamente la storia c'è questa sorta di romè giulietta sci-fi che fuggono nell'universo però tra l'altro vorrei anche includere saga tra le proposte della diversity challenge perché parla di due personaggi appartenenti a culture diverse che danno vita a una bambina che ovviamente appartiene a una famiglia mista ovviamente per me è meraviglioso non vedo l'ora di leggere i seguiti gli ho dato 5 stelline su 5 perché se le merita tutte dal primo all'ultimo è veramente molto avvincente molto bello è molto realistico molto crudo è una cosa molto onesto quindi è una cosa che io apprezzo moltissimo non vedo l'ora di leggere i seguiti passerei al prossimo titolo che purtroppo è l'unica nota dolente di gennaio anche questo è uno dei titoli che ho ricevuto da Edelweiss in Ark da recensire avevo davvero molte aspettative stiamo parlando di Ace of Shades di Amanda Fudi allora il problema di questo libro sono diversi partiamo dal presupposto che questo libro ti viene venduto come se amate Six of Crows impazzirete per questo allora già come tutte le volte che paragonano qualcosa a Six of Crows io me la devo smettere di crederci veramente di sperare che qualcuno scriva qualcosa degno di essere accostato a Six of Crows cosa che ovviamente non è riuscita ma non credo fosse neanche quello l'intento credo solo sia una di quelle strategie di marketing che provano ad applicare per vendere questo libro in realtà è uno dei più attesi del 2018 da tantissime persone perché effettivamente questa storia è molto avvincente io non sono riuscita però a oltrepassare il 75% di questo libro sono arrivata lì e poi l'ho mollato perché non credo che valga la pena sprecare del tempo su un titolo che non ti entusiasma non so se devo inserirlo nel wrap up visto che non l'ho finito ma questo è il mio canale io quindi faccio quel che mi pare quindi ci tengo a parlarvene così voi potete più o meno trarre qualche misura precauzionale quando andrete a spenderci i vostri soldi questa storia segue due personaggi principali che sono Anne e Levi Anne non riesce più a ritrovare la madre perché è scomparsa e l'unico indizio che ha la riconduce alla città di Rains che viene definita The City of Sin quindi la città del peccato perché è piena di casino ci sono tante cose molto scure c'è qualcosa che succede nel sottosuolo e appena giunta a Rains lei viene subito tra l'altro coinvolta in un inseguimento quindi deve scappare e si ritrova a essere salvata da Levi insieme a Levi tramite una grossa promessa che gli fa inziano a cercare la madre e scoprendo cose veramente assurde sul passato di Anne e sulla madre e in più dove verrà coinvolta anche Levi in qualcosa che è molto più grande di loro apparentemente la trama è super interessante il problema di questo libro è che la storia è veramente avvincente infatti il motivo per cui sono arrivata al 75% era proprio per capire come andava avanti perché ogni pagina c'è uno sviluppo veramente molto interessante il problema per farvi capire il motivo per cui io l'ho abbandonato è come se Six of Crows fosse stato scritto come Caraval ovvero coi piedi e la sensazione che io ho avuto dall'inizio alla fine di tutto questo libro è la stessa che ho provato leggendo Shadowhunters non mi odiate vi sto solo cercando di spiegare le mie sensazioni se siete fan va benissimo non è un problema ma io quando leggevo Shadowhunters o Caraval eccetera pensavo che entrambi fossero ottime idee perché di base c'è qualcosa di veramente molto avvincente ma scritti con uno stile che impoveriva tutto che mi infastidiva e mi annoiava allo stesso tempo nonostante io continuassi a pensare no ma voglio sapere come va a finire voglio vedere come va avanti e ogni volta succedeva un qualcosa eppure non riuscivo a sorpassare l'ostacolo della scrittura e in questo caso la scrittura è qualcosa che ti ammazza cioè proprio Ace of Shades ha un'idea di base molto interessante potrebbe avere uno sviluppo eccellente ma l'esecuzione è veramente molto povera e questa poi ci sono anche poche motivazioni dove sono le spinte dei personaggi è veramente difficile capire il passato perché una non si fa domande tutto il libro and continua a dire ah io non ho amiche ah io non ho non sono mai andata non ho mai fatto così com'è possibile che una persona non abbia nessuna esperienza di vita e non si sia neanche mai posta delle domande o non abbia mai posto domande cioè proprio veramente molto irrealistico idem Levi che è un personaggio che secondo me dice la frase che di più riassume questo libro such a bond might not have meant much to him but he meant something to him dopo tutto erano entrambi intrappolati nella stessa gabbia di cui non si può parlare il legame magari non avrebbe significato molto per Anne ma per lui per lui significava qualcosa cioè siamo sulla stessa barca vaiamone il meglio cioè questa frase secondo me rappresenta molto bene la storia perché è un po' come dire siamo su sta barca non è che abbiamo molti in comune non ci abbiamo nulla però facciamola andare visto che siamo qua ed effettivamente è quello che succede cioè cose che succedono a caso e motivate senza che siano spiegate questo romance di sottofondo ci non si parlano possiamo chiamarla attrazione fisica quello lo potrei capire non lo so addirittura lui dice no sta diventando proprio una mia grande amica ma non parlano questi due com'è possibile questa che sia considerata un'amicizia vabbè comunque prima che vi faccia qualche spoiler io gli ho dato due silline perché capisco l'intenzione e l'intenzione è corretta ma l'esecuzione è veramente tragica direi di finirla qua insomma prima che io sfoghi tutta la mia frustrazione su questo libro in ogni caso spero che questo video vi sia piaciuto e che comunque qualche titolo che ho letto possa avervi quanto meno incuriosito e se li avete letti anche voi fatemi sapere cosa ne pensate e ditemi qual è invece il vostro libro preferito di gennaio così magari io lo aggiungo alla mia lista TBR che ormai sta raggiungendo delle lunghezze interminabili il mese di febbraio sarà il mese dedicato alla Black Culture per la Diversity Challenge quindi non vedo l'ora perché ho The Hate U Gave e Akata Witch da leggere sono molto 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 entusiasta di questa cosa direi che siamo arrivati alla conclusione finale e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao